La riduzione del rischio in sala operatoria è importante il lavoro di team che prevede la standardizzazione, per esempio una corretta pianificazione del percorso del paziente chirurgico da quando entra in ospedale a quando esce dall'ospedale, una formazione, un training. Prevede l'implementazione delle disposizioni e raccomandazioni ministeriali, l'impiego della checklist e prevede un sistema di verifica degli errori a posteriore. Questo è un sistema che consente a mio giudizio di ridurre, se non azzerrare, il rischio in sala operatoria. È chiaro che la fallibilità è, come è stato detto, una caratteristica intrinseca degli esseri umani. Noi non possiamo cambiare la natura dell'essere umano, però possiamo agire migliorando le condizioni nei quali gli esseri umani lavorano. No, grazie.